Ciao a tutti, questo è il tentativo numero 2 presso questa facoltà di tentare di inserirmi nel tessuto sociale tedesco, cosa che la vedrò difficile. Vado a parlare poi vi torno e vi faccio sapere, un bacione nel frattempo. Ciao 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 a tutti, dunque sono di ritorno dalla scuola perché oggi non è stata una giornata di merda di più e dunque ho chiesto per il riconoscimento degli studi e loro mi hanno detto che all'inizio devo andare a parlare con i due professori perché qua si deve studiare e avere due materie centrali, per esempio matematica e fisica, in questo caso devo parlare con i professori di matematica e poi di fisica e loro mi diranno con quanti crediti mi hanno riconosciuto. Dopodiché devo andare di nuovo a parlare con i tizi con cui ho parlato oggi per avere un foglio dove dicono ti riconosciamo 62 milioni di crediti, mi raccomando, 62 milioni di crediti, ricordatevene. Dopodiché dovrei andare in un ufficio che si chiama International Office per avere altri colloqui, consigli e chiedere altre notizie. Quindi questo è tutto se volete farvi l'università di Coln e volete studiare per diventare professori di liceo. Quando ne saprò ancora di più vi farò sapere un bacione e non incazzatevi come me.